uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi tantissime novità soprattutto nella giornata di oggi per quanto riguarda il nostro fortnite come saprete di certo è stata annunciata ufficialmente la terza ed ultima parte della patch 9.30 quella che vedrà l'introduzione della airstrike grenade nel video di oggi infatti ragazzi oltre a parlare un pochettino più approfonditamente di questa patch in arrivo in mattinata parleremo anche di ciò che è stato annunciato ieri sera proprio da playstation italia siamo stati i primi ragazzi a dirlo e a renderlo pubblico nuovo bundle con skin esclusiva per chi acquista ps4 e altre cose e ovviamente ragazzi un po di leaks per tenervi sempre super aggiornati con tutto quello che riguarda il dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare come sempre tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xuderone grazie di cuore ragazzi per sostenermi nello shop di fortnite mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi ci tengo tantissimo ne trovo sempre di nuove e sempre tutti i giorni mi rispondete in tantissimi la domanda di oggi è un po particolare ve la faccio ma ve la spiego tu da che parte stai cioè no che nel senso sai no stavo dicendo ragazzi cosa vuol dire allora c'è l'evento in corso e che sta per iniziare ufficialmente l'evento dogus versus cattus dove dogus è il mostro e cattus è il robot in questo modo si può tradurre come stanno dicendo alcuni leakers il mostro distrugge la mappa il robot salva la mappa quindi tu da che parte stai dalla parte del mostro quindi di dogus o dalla parte del robot quindi di cattus vorresti la mappa cambiata o la vuoi tenere uguale con qualche aggiornamento fammi sapere qua sotto nei commenti ma quindi ciancio le bande e bando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a vedere il nuovo stato del nostro donato mostarda ragazzi non poteva non essere l'apertura di questo video che parlerà anche appunto del robot come vedete construction quindi in costruzione si fa ovviamente un chiaro riferimento a ciò che abbiamo visto ieri mattina del nuovo robot insomma il torso ragazzi queste sono le immagini presenti nei codici sorgenti del gioco questa invece è una panoramica del robot voglio un pochettino ragazzi andare leggermente più da vicino perché c'è da dire ragazzi che sta diventando assolutamente mastodontico ora ci manca per capire l'altezza solamente la testa ragazzi anche se sappiamo in realtà quando verranno proposti i nuovi pezzi l'otto ieri il torso il 10 il braccio sinistro il 12 quello destro e il 14 l'avambraccio poi ragazzi perché si ferma il 14 perché probabilmente il 14 sarà il giorno della patch 9.4 dove quindi verranno inserite nuove scusate nuove parti del robot e ovviamente nuove cose relative al finale di stagione che oramai ogni giorno che passa è sempre più prossimo c'è da dire ragazzi che questo robot si vede addirittura da approdo quindi ragazzi una cosa mastodontica come vi avevo già anticipato tanta tanta roba staremo a vedere non appena ne sapremo di più ma proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento ovviamente il bundle di cui vi parlavo a inizio live ecco qua l'immagine ufficiale della ps4 in 4k ovviamente da un terabyte che al suo interno ha il codice per riscattare la skin double versa mi sembra che si chiami perché non ricordo il nome con precisione comunque è una skin epica ragazzi che sarà presente solamente per chi acquisterà o il bundle di ps4 300 dollari stiamo sui 299 euro molto probabilmente ma non è l'unico intanto ecco qua il post ufficiale su twitter di playstation italia l'unico disponibile al momento che dice l'estate fortnite in arrivo scoprite tutte le confezioni e i contenuti digitali neo versa neo versa si chiama leggete tutte le informazioni su playstation blog ci dicono innanzitutto che questo pack verrà rilasciato ufficialmente il 24 luglio e ragazzi il 24 luglio è una data che già abbiamo visto essere molto importante la data in cui la season termina non termina ed inizia la 10 perché la numero 10 inizierà come vi ho già detto il primo agosto ma il 24 luglio è il termine ufficiale della season numero 9 come vi stavo anticipando non esiste solamente il bundle di ps4 da 299 euro per ottenere questa skin ma c'è ci è anche il contro c'è anche il controller ragazzi 50 euro se non ricordo male con al suo interno sempre un codice e per chi invece avesse già il controller e avesse già la playstation ma volesse ugualmente la skin il gold wireless headset quindi le cuffie senza fili anche queste con dentro la skin non c'è solo la skin ragazzi riceverete anche il deltaplano e riceverete con le cuffie e con il controller 500 v bucks con la playstation 2000 v bucks quindi ragazzi sempre qualcosa in più se dovete prendere una playstation e avete 300 euro da spendere beh una skin esclusiva fa sempre comodo ma proseguiamo ragazzi con il prossimo argomento e ovviamente parliamo del tweet ufficiale di fortnite get ready for an explosive time when the v9.30 content update lands tomorrow inteso oggi attenzione perché loro ci dicono ragazzi un contenuto esplosivo e il contenuto esplosivo ragazzi fa un chiaro riferimento come già vi avevo anticipato alle granate airstrike qua si chiama frappé arienne perché è francese in realtà in inglese si chiamano airstrike grenade non sappiamo il nome di questa granata in italiano ma ho l'audio ragazzi in alta definizione di come le sentiremo in game mi faccio sentiremo in inglese mi faccio sentiremo qualche cosa non sono male eh sembra proprio il passaggio di un aeroplano senti che sa c'è questa è la seconda guerra mondiale raga questa è la sirena da seconda guerra mondiale c'è ancora non male esplosioni abbastanza interessanti insomma ragazzi airstrike grenade delle quali in realtà non è ancora stato svelato il gameplay abbiamo solo visto le immagini abbiamo anche visto l'effetto nel video di ieri in game e qualche settimana fa qualche giorno fa vi ho fatto vedere proprio la granata nelle mani di un personaggio domani le vedremo le proveremo e chissà se stravolgeranno il gameplay o se semplicemente saranno l'ennesima cacata che vogliono inserire e chiudiamo ragazzi con il video di oggi parlando del pack quello che si chiama vigliacca mi sono dimentico punto di rottura punto di rottura questa è un'immagine interessantissima perché ragazzi voi non lo vedete perché sono davanti io vedo di farvi ecco qua che forse riuscite a leggerlo è stata trovata questa immagine che anticiperebbe il prezzo del pack che non è 9,99€ ma sembra essere 19,99€ sappiamo però che il pack include 1000 V-Bucks quindi in realtà un Deca ve lo andate a recuperare riprendendovi i V-Bucks vi ricordo che la skin mi sembra che abbia una rarità epica insieme al back bling e vi avevo già fatto vedere un gameplay ora non ho tempo di farvelo vedere ma sicuramente appena ne ho uno ad alta definizione sarete i primi a vederlo io vi ringrazio ragazzi tantissimo per aver guardato anche oggi il video delle news un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao ciao